Perché c'è un cubo diversamente etero? Finalmente sul nostro gioco preferito! Siamo finalmente in balia di sta scassa coglioni! Un cubo da compagnia? Amore! No, no, è lui che si prende cura di me, fidati, non il contrario! E adesso come io lo dico alla mia ragazza, scusatemi! Amore, mi dispiace ma giocare a Portal mi ha reso cubo sessuale! Ah, quindi questo cubo è meglio rispetto a una ragazza! Grazie Portal per queste lezioni di vita! Mi sto prendendo cura di lui esattamente come se fosse mio figlio! Usandolo come scudo umano! Ok, là c'è il pulsante che devo raggiungere in qualche modo, che non ho ben capito! C'è una mano, come l'altra volta! Ok, ho scoperto robe ragazzi! Bello! Questa è una fanart interessante comunque! Comunque questi sappiamo già cosa sono serviti ragazzi! Sappiamo già cosa sono serviti! Ah, quindi devo tipo fare così! Ok, ho capito, beh! Grazie cubo amico! Ma guarda, in quel caso mi faccio direttamente un alcol test che non si sa mai! Aspetta tesoro che ti poggio un attimo qua! Ok, se adesso io prendo quel flusso lì, dovrei essere in grado, teoricamente parlando, di portarlo nell'altra stanza! Oh, raga, comunque è incredibile! Devo fare anch'io da cubo umano in questo episodio, se mi colpisce bestemma! Ok, e adesso facciamoci una bella passeggiatina! Vedi, io ci penso ai miei figli! It cannot accompany you for the rest of the test and, unfortunately, must be euthanized! No! Please escort your companion cube to the Aperture Science Emergency Intelligence Incinerator! No! Ma, 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 ma cosa? Mi dispiace tesoro, io non volevo farlo! Io non volevo farlo! Non volevo portarti in questo laboratorio di merda! È stata tua madre! Quella stronza! Non le piaceva l'incubatrice ospedaliera! La vede la vita, no? Cubo, incubatrice! No, eh! Ma come? Ho iniziato la registrazione, fra? Posso, per piacere, non crepare per una volta nella mia vita? Ok, grazie! Ma quindi questo è il test finale! Al volo! Ok, raga! Non credo che questo... Rionosco quella voce! Non mi è piaciuta! Cazzo, cazzo! Do! Che devo fare? Sparagli a quelle stronze! Funziona? Funziona? Dovrebbe funzionare, giusto? Codo! Ok, mandalo là, per piacere! Bene, entra lì! Adesso, così, subito, veloce, veloce, veloce! Entra! Ti ho raggiunto, zi! Raccontiamo una storia? Ok, ce l'ho fatta! Attivare sta pedana del cavolo, finalmente! Facciamo così, facciamo così! Ok! Attivato! Adesso non cado! Come un coglione, magari! E mi butto qua! Ok! Dovrò fare di nuovo il giro per aprire quella parte lì e tornare indietro! Sì, raga, però questa pedana potevano farla un po' più veloce! Cioè, non entra in Italia! Oh, ora possiamo tornare senza troppi casini? Grazie! Non mi freghi, se io adesso mi butto qua... Eh, eh, eh! Non mi freghi, bastarda! Questa è la stranza del puzzo! È quello che penso che sia, vero? È quello che penso che sia! Bello, è figata! Sono un coglione, scusatemi! Ok, ce l'ho fatta! Ah, ho capito! Sì, oddio, è buono, subito! Ma non ci passo, non ci passo! Godo, sai! Oh, ce l'ha scritta torta, è credibile! Aspetta! Devi lasciare una calmata, ansia! No, 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 no! No, io non voglio fare la parte della torta, amica mia! Non ci siamo capiti! Eh, raga, raga! Raga! YOLO! Salta, salta! Ok! Ok! Non credo che funzionerà! No, raga, a parte gli scherzi! Qua c'è un codice, non posso uscire da qui! Mi sono ricordato, raga! Ok! Qua c'è proprio la fabbrica delle torrette! No! Samu, zitto, non sono nel momento in cui puoi parlare, devi stare zitto! Che tappi! Siamo a tutti gli effetti in un laboratorio, il problema è che io, ragazzi, non so dove cavolo devo andare adesso, non credo di arrivarci, e invece ce l'ho fatta, vedi? Funziona, a volte! Oh, questa è la stanza che abbiamo fatto nello scorso episodio, incredibile! Bello, però, come è studiato questa mappa, mi piace! Magari se non ti butti di sotto, come faccio a... Così! Se mi butto qua, che succede? Arrivo, blocchi miei! Raga, dove cavolo sono finito? Io non ci vado qua! Vabbè! Grazie, sì, lo sapevo! Nemmeno io, zi! Ah, ma guardate voi che cosa mi tocca fare! Giuro che se io non entro in quel buco mi incazzo! Mi incazzo, va bene? Spingimi, manno! Oh, io! Ah, devo metterlo lì, scusatemi! Io da qui non ci passo! Comunque questo gioco, ragazzi, per me è da premiare in tutti i modi possibili! Eh, ti sei mutata? C'hai il muto? Questi si attivano 100-100 Lo sapevo! Lo sapevo! E adesso? Oh, cazzo! Tua madre! Siamo così? Non penso! Raga, mi fai il culo questo, eh! Guarda, ti sei scavata la fossa da sola, amica mia, eh! A noi due, stronza! Oh, cazzo! Ciao! Quindi, apro la porta e mi lancio al razzo. Va bene. Fanculo, fanculo! Godo. Posso, per piacere, andare avanti senza tutti gli coglioni. Non mi piace, però, che le porte mi si ridino dietro senza il mio permesso. Sinceramente. Ho capito. Lancia! Hai rotto tutto? Hai sfragassato ogni bene? Bravo! Sono un coglione. No, no, no! No, vi prego, no! Tuma! A noi, bastardi! Ah! Tiè! Hello! Hai finito di rompere i coglioni? Tua madre! Oh, un bel ponte lungo, senza nessuno che mi rompa, ovviamente, i coglioni. Immagino che potrò arrivare sano e salvo alla fine di questo ponte. E sono arrivato sano e salvo alla fine di questo ponte. La porta è aperta, ma dietro la porta non c'è niente. Sinistra o destra? Sempre a destra, ragazzi. Sempre a destra. Ragazzi, questo corridoio non mi convince per niente. Cos'è quella roba? Sei tu? Hai un cuore? Non credo sia canon questa cosa. Ma in realtà ho fatto quello che mi neva il tizio. Non capisco che cosa sia, però, eh. Molto ganza. Cos'è? Cosa devo farci con questa cosa? Scusatemi. No! Tieni! Sì, ma entra! Oh! Oh! Cosa è successo, amica mia? Che non si sa cosa mangiare! Più seducente ce n'ha scritto! Ma ti droghi? Sì, ma, amica mia, devi darti una... Oh, cazzo! Oh, cifra! Cazzo, cazzo, cazzo! Tira! Spara! Ok, godo! Ci ho azzeccato! No! Ah, ma guarda dove è andato! Scusatemi, non l'avevo mica visto. Non lo so chi sono io, non lo so, non me l'hanno detto il nome, amico mio, mi dispiace. Poverino! Ma chi l'ha fatto, sto gioco? Chi è il genio? To! Mi dispiace, amico mio, figlia! Lancia! Ezz! Cazzo, l'ho preparato per torta al cioccolato da 500 grammi. Fai la lista della spesa, io ti vando le inceneritore. Spara! Bravo, sì! No, l'ha schivato la stronza! Prendila! Spera, l'ho preso. Ok, ok, ce l'ho fatto. Porca puttana, vai a fare in culo, vai! Posso passare senza che tu mi ammazzi? Grazie. Gor! Ragazzi! Oh, Gesù santissimo! No, no, no! No, 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 no! Raga? Sono morto! Vedo Gesù! La luce! Glados! Non posso muovermi, ragazza. Non posso muovermi, raga. Mi hanno preso? Mi hanno preso? No, dai, mi hanno preso. Dove sono adesso? No, mi fanno respawnare in un altro posto. Una torta. Quella è una torta. Cosa cazzo succede? No! E adesso? Ma come? Ma come? Aspetta, ma è finito il gioco? Non so nemmeno se questa canzone è il copyright. Ci siamo. E' veramente finito il gioco? Due cacchio di episodi. E lei ci fa compagnia nella schermata finale di completamento del gioco. Mi riferisco ovviamente alla radio, non alla torta. Bene, ragazzi, che dire? Gameplay finito. Storia finita. Porterò Portal 2? Boh, questo gameplay è stato più breve di quanto io credessi. Intanto fatemi sapere se questo episodio vi è piaciuto, se questa serie vi è piaciuta, se ne volete altre simili. Quindi ragazzi, io spero che il video vi sia piaciuto. Commentate e condividete. Bohaioli. Buona scissi. E se un cissi, buona. Grazie a tutti.